Peugeot 205 Ciaro, di grinta e di cuoio. Sorridente, gustosa, naturale, viva, leggera, Danone è tutta salute. Allora, scegliete il vostro modo per dire, oggi mi sento Danone. Danone. Per tutti i sottomarini, tutti sotto poverta, immersione, sotto olio e sotto aceto, sotto tutta, ecco sottocchio, la barriera cipollina e ancora sotto un branco di funghetti, tutto è sotto controllo, non mi resta che sottrarre, sotto con la fiocina, zack, via un sottaceto, zack e un sottocchio. Voglio, ma ho una mira da non sottovalutare e il sottoscritto non corre il rischio di finire sotto scorta. Polly, c'è più gusto. Il tuo gatto si gode la vita e per lui il Kitekat ha preparato due nuove straordinarie specialità. I teneri bocconcini, così ricchi di carne, ancora più saporiti e gustosi. E fantastico, il nuovo pasto completo Kitekat croccantini. Da oggi il tuo gatto è felice di scegliere di uscire tra Kitekat e Kitekat. Quando c'è Kitekat, si vede. Per la prima volta mi hai battuto. È stata la prima e sicuramente non sarà l'ultima. Head Double Power. Giochi con un vantaggio in più. Per seminare un campo grande quanto il mondo ci vuole l'impegno di molti e le sementi non bastano mai. L'Unione Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno aiuta ogni giorno in Italia e nel terzo mondo i bambini e le madri che soffrono, i poveri, i malati, i tossicodipendenti. Anche tu li puoi aiutare destinandone la tua dichiarazione dei redditi l'otto per mille solo per scopi sociali e umanitari. Firma Unione Chiese Cristiane Avventiste. Con il tuo aiuto il raccolto sarà abbondante. Un otto per mille solo per amore.